Buongiorno, sono Daria Magiri, sono presidente dell'associazione Donne 4.0. Sono veramente felice di essere qui a questo bellissimo evento come ospiti e come giudici, perché noi di Donne 4.0 abbiamo avuto l'incarico di selezionare un premio specifico dove la rappresentanza femminile, dove la sensibilità femminile, dove le conoscenze e la leadership femminile vengano valorizzate. Quindi grazie alle ambassador della Campania e del Lazio abbiamo collaborato per supportare la valutazione dei progetti che secondo noi valorizzano l'ingegno, le competenze delle donne nella tecnologia. Il nostro motto è competenze, cuore e coraggio. Oggi qui nel sud nei giovani ne vedo tanto e quindi sono veramente estremamente soddisfatta di aver dato la nostra adesione.